L'evento centrale è quello del 21 marzo dove abbiamo organizzato in collaborazione con... Quest'anno la tematica è il lavoro stagionale, abbiamo organizzato la seconda edizione di Incursione nel mondo del lavoro dal titolo Summer Job. Abbiamo organizzato tre appuntamenti, 20, 21 e 22 marzo. L'evento centrale è quello del 21 marzo dove organizzeremo degli job speed date. In particolare abbiamo collaborato con il Consorzio degli albergatori venendo a conoscenza di tutte le figure professionali che stanno cercando le strutture recettive. Organizzeremo quindi dei banchetti, il 21 marzo questo, all'interno della Mediateca Montanari dove ogni titolare dell'albergo avrà la possibilità di conoscere i ragazzi che si vogliono candidare a queste offerte di lavoro. Quindi organizzeremo proprio dei piccoli speed day, dei colloqui dove il ragazzo avrà la possibilità di presentarsi, parlare della sua esperienza e cercare di conquistare questo posto di lavoro. Ecco, ci sarà un filtro, un indirizzo naturalmente che voi darete a chi si candiderà? Sì, naturalmente aiuteremo tutti i ragazzi a riguardare, personalizzare il curriculum proprio per l'evento che proponiamo. Perché ricordiamo che comunque il curriculum va personalizzato e studiato ogni volta per ogni tipologia di lavoro che si cerca. Naturalmente essendo una speed date, 8 minuti sono pochi per presentarsi, quindi anche lì bisogna un attimino prepararsi perché in quegli 8 minuti bisogna riuscire a dare una buona impressione e a sintetizzare tutte le competenze personali e professionali che si ha. Vi ricordo che siamo aperti martedì, il giovedì dalle 3 alle 6, alle 7 e il venerdì dalle 10 alle 1. Le iscrizioni sono aperte fino a quanto? Fino a venerdì 15 marzo. Per iscriversi, perché i posti sono limitati, l'iscrizione è gratuita, però bisogna iscriversi mandando una mail ad agenzia giovani chiocciolacomune.fano.ps.it. Il 20 marzo ci sarà un evento dedicato invece alle offerte di lavoro all'estero e a tutti quegli strumenti di mobilità che possono dare la possibilità ai ragazzi di andare all'estero a fare esperienze di lavoro, di volontariato, convitto alloggio gratuito. L'ultima giornata invece tratteremo i contratti di lavoro stagionali, quindi partecipate a tutti i tre incontri. Vi aspettiamo.